incontrare le nuove generazioni credo che sia molto importante incontrandole spiegando loro la bontà dei progetti di aziende come Novamont si possa costruire davvero un futuro diverso un futuro migliore che mi auguro sia sempre più nella direzione del rispetto dell'ambiente e di un'economia appunto circolare. Ho visto i giovani molto interessati e affascinati sempre più queste attività che promuovono aziende come Novamont sono fondamentali per far capire alle nuove generazioni l'importanza di questi aspetti. Mi è sembrato molto interessante l'aspetto di ottenere dei materiali che in poco tempo riescono a degradarsi e che quindi riescono anche ad avere un impatto sull'ambiente che diciamo non è dannoso. Mentre spiegavano, mentre cercavano di farci capire, di farci vedere anche i loro processi, si vedeva proprio questa passione che loro mettono in quello che fanno. Ho trovato molto utile il progetto portato avanti dalla Novamont sul telo della pacciamatura che secondo me è stata una delle cose più utili che possono essere fatte perché comunque questo telo qua che dopo diventa sostanza organica e che comunque dà una mano alle culture successive e comunque arricchisce il terreno secondo me è stato un progetto molto molto utile. Mi porto a casa questo senso di ciclicità, questo partire dalla terra e riuscire a tornare alla terra senza sprechi, senza sgravi per l'ambiente, quindi dei danni e con dei benefici per l'uomo quindi un vantaggio totale che è sicuramente base per sviluppi futuri.